È nella giornata mondiale dell'acqua che è stato ufficializzato il Patto per l'Arno, un percorso partecipativo al quale hanno aderito 49 comuni che il fiume attraversa in ben 241 chilometri. È un contratto di fiume strategico per una gestione condivisa del nostro grande fiume toscano, sia dal punto di vista della sicurezza idrogeologica, ma anche per la valorizzazione a 360 gradi dell'ambiente fluviale. Il Consorzio 2 Alto Vardarno allora propone dei subcontratti di fiume, dei contratti di fiume territoriali che partono proprio dall'esperienza del territorio. E proponiamo H2O Casentino, che coinvolge tutti i comuni del Casentino, non solo quelli che si affacciano sull'Arno, ma quelli che insistono nell'intera vallata. Scendendo un po' verso la piana, verso Arezzo, incontreremo poi Abbraccio d'Arno, un contratto di fiume questo che ruoterà molto intorno alla presenza delle due dighe artificiali che a monte di queste hanno creato un'oasi naturale con caratteristiche veramente uniche. Il Val d'Arno nascerà un contratto di fiume nuovo che si chiama Acquedarno, dove l'impegno del Consorzio di Bonifica sarà quello di valorizzare questi ambienti fluviali per fare in modo che i cittadini del Val d'Arno ritornino protagonisti lungo le sponde dell'Arno. Un contratto dei contratti dunque per raccogliere e valorizzare le iniziative green che ruotano attorno all'Arno, tra queste anche quelle che interessano il comune di Arezzo. L'Arno venendo giù dal Casentino ci torce il muso, come dice Dante, però ce lo torce in un punto in cui c'è una bellezza particolare legata alla confluenza con il canale maestro della Chiana, nella Chiana di Ponte Buriano, dove per motivi di tipo proprio paesaggistico ambientale è possibile creare una fortissima ed importante attrazione turistica, ovviamente compatibilmente con i livelli di rischio idraulico ai quali dobbiamo comunque sempre guardare e anche con un sistema di riqualificazione molto importante dal punto di vista ambientale. Quindi direi che queste sono un po' le anime più importanti per le quali il comune di Arezzo si rende disponibile, come tutti gli altri comuni che si affacciano sul corso d'acqua e credo che questa sia una sfida importante da cogliere. Il progetto è stato presentato oggi che è la giornata mondiale dell'acqua, non a caso è simbolicamente presentato nel momento in cui si parla di acqua e i fiumi sono acqua.